Tutti, 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 prego, 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 venite pure qui in fila indiana, il gioco, alcuni di voi lo conoscono già, è molto semplice, bisognerà che vi passiate una palla senza l'utilizzo delle mani, quindi, venga qua, venga qua, allora, mettetevi in fila indiana come meglio credete, posso fare una piccola aggiunta, dato che vedo che c'è un po' di spazio, Giosavino le andrebbe di giocare con noi? Venga, venga, venga con me, venga con me, fai, ci metta qua, lui è il nostro spettatore in campo, capito, non il nostro spettatore in campo, ci metta qua, piacere, piacere, Giosavino, partiamo con una palla molto piccola, dovrete passarvela in questo modo, vi facciamo un esempio io e il maestro, così, ma quando siete bei, un applauso, ma che momento d'amore bellissimo, ok, la palla ovviamente deve partire da Giovanni Esposito e finire a Marta Filippi, siete pronti? 3, 2, 1, via! Da che lato? Arudio, Sergio, non mi faccio specie, vai! Non mi faccio? Specie? Così, vedi, la devi passare. Ah, che te! Sergio, vogliamoci bene, Sergio! Ma tu non l'hai bloccato, perché? Perché io non gioco a collo! Vieni qua, vieni qua, vieni qua! Vai, Enzo! Piano, piano! Ma che sch... Piano! Ma mi sta facendo? Piano, piano, non la far cascata! Ma mi grabbi con la barba! Piano, 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 piano! Guarda, guarda! Aspetta un attimo, che cavolo, scusa! Piano! Ce l'hai? Ce l'hai? Ce l'hai? Aspetta un attimo, e chiudila! Ce l'ho, ce l'ho! Ce l'ha, ce l'ha, ce l'ha, ce l'ha! No, bravi! Ma perché sempre nei momenti, ma abbiamo molti sbagliati? Non ci sto giocando a questo! Piano, piano, piano! Pianissimo, pianissimo! Che sta? Rimani così, rimani così! Blocca, blocca! Bravo, bravo! Bravo, bravo! Bravo, bravo, bravo! Mazza! Ma togliti il pullard! Molto molto molto! Eh, il Vett, che c'è? Ma si stanno facendo? Eh, il Vett, sorridi! Oh! Non lo c'è più, guarda molto! Capisce molto! Guarda che bello, guarda che bello, guarda che bello, guarda che bello! Ti senti già diverso? No, piano che la sta perdendo, eh? Bacialo! Bravo, bravo, bravo! Perché mi è durato un'ora? Olè! Eh, ce l'abbiamo fatta? Ce l'abbiamo fatta! Bravo! Proviamo in un altro modo. Facciamo il ritorno, ma lo facciamo con un oggetto che vi è molto familiare. Il nostro pollo. Questa volta partiremo da Marta e lo dovrete passare così, con le ginocchia. Siete pronti? Sì, siamo pronti. Dai, secondo me... Proviamo, proviamo, proviamo. Via! Mi sento che... Ce la possiamo fare? Piano, piano. Mi fa tomare le ginocchia, eh? No, no. Sio Sabino, vieni. Piano, 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 piano. Sio Sabino? Sio Sabino. Apri il rosso. Schiaccia, schiaccia. Oui, oui! Sio Sabino, vieni. Dove vai? Sio Sabino. Dove vai? Ehi! Girati! Girati! Cosa fa? Cosa fa? Ah! Ma che stanno facendo? Anche meno, anche meno. Anche meno. Si è affezionato. Povera papera. Piano, piano. Io vorrei andare a lavarmi gli occhi. Guardi. Chi guardi? Guardi. Ma adesso, perché lo guardi con quel pano? Non l'avevi preso. Piano, 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 piano. Sei bellissimo in questa posizione. Ho passato il destino. Il centri di destino. Piano. Aspetta. Piano. Che abbiamo diverse altezze, io e te, hai capito? Eh. Eh. Oh, 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 oh. Occhio, piano. Enzo, c'è Giovanni che ti dica una cosa. Enzo, prendi la papera. Mamma mia. Ma non lo saccredisci. Ehi, piccio. Ma non lo saccredisci. Ehi, piccio. Calma, calma. Ehi, va. Ti dico che non mi porti il numero. Guarda che gli sta cadendo. Sergio, ti dico solo una cosa. Non ti innamorare, ma... Strizzale il collo. Vai, Sergio, vai. E nel vincere. Vai. E adesso? Piano. Per favore. Ce l'abbiamo fatta? Bravo. Stasera tutto è... POSSIBILE! Bravi, bravi, bravi. Complimenti. Bravi. Gravi. 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 Gravi.